Ciao creativi! Oggi creiamo la carta del sole, la più positiva degli arcani maggiori, che rappresenta la felicità, il bene più prezioso di tutti. Questa è la carta dello splendore, dei successi, del superamento di ogni ostacolo. Se esce al dritto, infatti, rappresenta un momento di gloria e anche in amore il sole farà brillare i vostri sentimenti. Se la carta esce al rovescio, tutto il suo significato si capovolge. Cadiamo nel buio, ma attenzione, è un buio creato da noi, dai nostri pensieri negativi. Può rappresentare un momento di depressione e questa carta ti sta dicendo che sta a te portare la luce.